Ciao a tutti quei frani che vi parlo, oggi sono qui per presentarvi un altro video Oggi siamo ritornati dopo tantissimo tempo sul plan di Zoho Perché gli dice nessuna sfida della comunità attiva? Ogni tanto lo fanno, non ho idea, non mi fa fare neanche questo Vabbè, il primo po' lo giusterà, non so se si può fare Adesso ritiriamo i soldini Purtroppo non sono potuta entrare un granché Quindi ho 1040, avrei potuto averne molti di più Comunque, torniamo in Europa 200 e 300 e più? No, di più, di più Ok, entriamo nel franchising Aspetta il caricamento, ma tanto fa veloce Eccoci qua Eccoci qua Ok, sì Allora, eravamo rimasti qui Non mi ricordo ancora bene perché è passato parecchio tempo Ok, avevo... Ah sì, allora Un aggiornamento che avevo fatto è mettere questa collinetta, poi qua chiuderò Perché quando li sblocco ci sono degli spruzzi d'acqua Ah? Che fanno effetto cascata Allora volevo infilarli qua così scendeva tutta l'acqua e facevo una piccola cascatella Comunque, come stanno i nostri bonghi? Sono oscurati Ciao Sono cresciuti i bonghi? Sì Mi sembra un po' più grande 8 anni e 2 Ah, saluto Comunque a breve dovrebbero accoppiarsi per fare i cuccioletti C'è un regalo? Ehm, sì, c'è un regalo Sì, c'è un regalo A zero altrimenti per tre mesi Mi danno 2.500 euro E vai, magari E siamo a 32.000 Ah, infopoint Numero di risultatori 300 di risultatori Ok, va bene Allora Il calendario, il libro No, no, apposta Allora, ecco qua Stavo aspettando questo momento qui Si stanno copiando Oh Guarda come sono carini Adesso fanno le zozzerie Fatto Già fatta? Sì E tra quanto? Oh no Non ce l'ha fatta Come no? No Eppure è molto fertile Che peccato No, non partorirà Perché non è andato a buon fine L'accoppiamento Mi dispiace Aspetteremo un po' Allora, io dovrei occuparmi un pochino dei visitatori Perché Hanno poca roba qui L'info point E il chiosco di bibite Vediamo cosa possiamo aggiungere E il chiosco da mangiare non c'è Esatto Volevo aggiungere anche quello Ah, quindi non andano a mangiare No Comunque Già che ci sto Mettiamo un bel altoparlante Altoparlante? Sì Ah no Spero L'ho già messo Dove? E qui l'alto parlante di dati Però non ho capito Il cerchio rosso Il cerchio blu Ah boh Questo non l'ho capito Vedi vai là sopra Allora qua non ho cassette per donazione Ora si Vai là sopra Vedi che Ecco Ah ecco ecco Importanti anche i cestini Metà ponte Ok Vabbè qua per adesso Lasciamo andare così Qui in questo piccolo ambiente Volevo Ok Il negozio di cibo Volevo fare qualcosa di carino Allora avevo detto Che qui ci avrei messo una mostra E così voglio fare Però se creo una stradina Centrale Posso risparmiare un po' di spazio E metterci qualcos'altro Quindi la facciamo piccolina Adesso Posso già metterla la mostra? Io non lo so Oh Costa 3000 la mostra Ma cos'è? Ora ti faccio vedere Come posso metterla? Ma imposto la strada Vero? Anche Aspetta Ma puoi modificare la strada Sì Ma qual è il lato giusto? Sono tutti giusti Ok ho speso 3000 Stai modificando gruppo 11 Sì Gruppo di posizioni La mostra Innanzitutto Cambiamo il colore Perché è veramente triste Così Non ho capito È un disegno puntato No No Aspetta Ora vedrai Ah beh Della mostra Devo mettere No la musica magari può dar fastidio Due altoparlanti didattici Poi ci devo mettere Facciamo un po' di panchino Facciamo qualcosa di carino Mannaggia Mannaggia Ok Così i visitatori si sentono a loro agio Ovviamente i cestini non mancano mai Un po' di panchino Un po' di panchino E' un po' di panchino E' un po' di panchino Bongo Bongo Ok uno fa bongo L'altro fa la febbre emorragica delle scimmie Che non ho E' un po' di panchino Non potete mettere qualcosa di più No Non è solo per le scimmie Ah Vabbè Ehm Tavellone sulla salvaguardia Sulla mostra Ecco il tabellone sulla mostra Adesso devo girare Un bel cestino Non è un cestino Insomma Habitat Habitat Delle telecamere Perché questa è una Della particolare Qui ho messo Alte telecamere Non servono Magari non disturbare Ok Ok No Continuo Non capirò bene Salutiamo Gesù Adesso che Gesù lo devo vedere Gesù D'Inghilterra è arrivato Cosa chi è? Gesù da qui sei? Togli sta roba Ecco Questo è Gesù Boh Mi aspettavo qualcuno Un po' più anziano Comunque Tatura Devo Richiedere un animale da mostra Allora cosa ci possiamo mettere Lo so No Non nel deposito Qui Le correnti Non serve Senza strada Le blatte Sinceramente Io odio a morte Gli insetti Quindi Non amo gli animali Ma gli insetti Proprio non mi vanno giù Quindi Gli scarafaggi Li eviterei Vabbè 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 Poi I serpenti Non mi dispiacciono Un ombrico Ce lo mettiamo Non ci sono purtroppo Boh è molto bello No Centipede Per favore No Le chioccele Le adoro Molto carine Crotalo Crotalo Oh le iguane Qualcosa che attiva L'erone 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 Sì l'ho visto E questa è più Piace L'erone 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 No La fertilità non mi interessa Perché non voglio che si accoppino Quindi Tutte Tutte No Questa Tutte di uno Lo stesso No Femine masca E questa Eh ma Però poi non si preferiscono Eh ma posso darmi i contraccettivi Ah Qua La porcheria No L'altro è porcheria Eh ma io intendo che Tu gli dai la roba Chimica Sì allora E così le fai rubratare Non ci capiscono niente Ma cos'è sta Allora devo modificare La temperatura interna La temperatura sta cambiando Ok 25 Ok 26 gradi Poi che cosa vuoi No le finestre le lascio tutte aperte Da me ok Non si Mi dia fastidio ZAMOU PARFO Detto anche Non disturbare ZAMOU PARFO Che buona che la lingua è Allora Contracettivi Ah così Così Dov'è l'altro Eh Bella domanda Questo No Ma dov'è Allora lo cerco così Lo faccio prima Eh va a capire Eh c'è qualcuno Eh si già vanno vedere Eh no ci fa una foto Ma devi mettere il cartello Che non si fanno le foto No perché Eh c'è il coppio Vai te la farai Guarda quanta gente Dai vai vai Dai le pinone Eh eh È arrivata l'ispettrice Eh vabbè C'è una coppa C'è una coppa Sotto c'è anche l'altra cosa Ma la coppa vuol dire Che c'è una coppa C'è una coppa E poi ce ne mettono noi Sì lo so Allora un attimo Cosa è che vogliono Loro stanno bene Appunto così Ah ecco Lo scenario Dotazioni di livello 1 Di livello 2 Di livello 3 Lo scenario A che punto è? Deve ricercare Ricerca ma anche Recensioni Ma sto recensione Quando è uscito Ma quante ricerche ci sono? Tante Un attimo Che non la trovo Poi devo fare questo Eh Tema 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 Oh Non è che stanno Fando una zamba No 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 Qui ci sono gli animali Staff Ricerca veterinari Eh allora Vedi il meccanico Ma il cappello laggiù cos'è? Il negozio Il cappello Cosa sono? Forse lo so Puoi fare un attimo Mi fa vedere Cosa stava nel negozio Il cappello E i vendoli a cappelli Vendo il cappello Stanza dello staff Ok ho capito Devo fare una stradina Qua E metterci un altro Qualcos'altro per loro Perché sennò si lamentano Ma chi lo Lo staff Ma La veterinaria La rispettrice Che ho detto Che una fatta La come l'hai chiamata? La veterinaria Perché? Boh magari fa anche La veterinaria Ah ho capito Vetrinaia No 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 Qua gli unici vetri Che ci sono Più o meno Sono quei cosi bianchi Che aspira È talmente trasparente Che non si vede nemmeno Ma che stai a fare? Giro a giro fondo No no È tutto opposto Ma la rispettrice Dov'è? Che pina fatti? Non lo so Un attimo Cos'è quella roba? L'elettricità Generatore di corriente Sì Oh Adesso è acceso E quell'altro affare vicino Cos'era Quel coso vacuo? Aspetta Non vedo più niente Stanza dello staff Ok Costa non sa Così Quindi basta così Allora Dove sta la zia? Tu ce l'hai Te l'ho messa Alla stanza Sta dall'altro lato Eh Dio 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 Non li puoi guidare Le persone Cos'è Ma perché fanno i rossi Verdi Metti qualcosa di più utile Non metti le scimmie Ma non metti le scimmie Ma aspettila Un attimo Fammi distrarre Che è già complicata La questione Allora Qui dove aggiungi Per me Ecco Perché Mi serve Qui Allora Così Ok Guardate Che dice Mette Un cibo Di farmi Di scegli E anche Lui 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 Aspetta Aspetta Rispettrice Dove è finita Rispettrice E forse Sull'occhio Rapporto ispezione Polizia Bongo 4 stelle Didattica Didattica Non si alza Non capisco Guarda Quanta fame Che c'avevano E porca miseria Non mangiano Da Io gli alzo i prezzi Vai vai Butto Facciamo i 50 Così Così Se ci fanno Sti prezzi In realtà Va bene Così Ho alzato Un po' i prezzi Allora Qui stavo Dicendo Dove metterci Qualcosina Perché Sennò Così È molto brutto Guardate Quanto popolo Ci stanno Riprovando Dai Per favore Riusciteci Questa volta Vediamo Quanto è la strofinata Qua Cerane Un pochino E la produzione Si avviata Vediamo Come è finita Volta buona Sii A settembre Addirittura Anno 10 Che vuol dire Anno 10 Ci mettono 7 mesi Aspetta Ma siamo Nella Ah ok Vabbè Ho capito Adesso Ah no Ci mettono Un anno In 7 mesi Settembre Anno 10 Siamo a febbraio Anno 9 Ma sto Poi maggio Giugno Agosto Settembre Un anno E 9 mesi Dovrebbe essere La miseria Che il cucciolo Cresce Un millimetro All'anno Vabbè Ma Ok Ora che Si sono Toccolate Allora L'importante È che partorisca E che ci sia L'ospedale Giusto Ok Allora I visitatori Stanno da posto Ho messo Un po' Di qualcosa Di carino Questi serpenti Spero Stiano bene Stanno bene Piacciono Stanno bene Sono belle Sono bellissime Allora Dovevo mettere Lulli Balus Sì Ma poi devi mettere Anche Quell'animale Del sondaggio Come si chiama Niala Vediamo un po' Allora Avete detto Che mi piacerebbe Vedere Niala Vinto Niala O Lo Capi No Mi parli Niala Vediamo se lo trovo È comunque Un altro cervo Quindi Eh ma Ma poi gioca in italiano Com'è Sempre Niala Si chiama Vediamo anche Lo Capi Sì Se vi piace Provo a piccare La Croce Ma dai Ah no Ci sono Ok Allora Ci sono Capi E ci sono I Niala Niala Prendi il colore Marroncino Quello 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 Cosmarlo C'è pure Il colore Bianco Non è fertile Per niente Che schifo Guarda Quanti pochi sono Io Capi Ce n'è di più Io preferisco I Niala Che ce n'è meno Anche hanno vinto I Niala Quindi facciamo I Niala Sì Che bisogna Ampecciarsi Che cosa fare Ok Ce ne so C'è quello Che costa 40 Magari riesco A fare una cosa Intelligente Mi prendo Due Albini Eh Maschio e femmina E devono Costano poco 40 E poi Perché è poco fertile Però Ci si può Anche se potrebbe avere Difficoltà a riprodursi Se ci riesce Escono Albini Ma c'è un modo Per aumentare La fertilità Eh Di gene in gene Si Costa 300 Infatti Se c'è qualche cibo Particolare Non lo so Sinceramente Perché Adesso Perché il liquido Adesso Mi cerco un attimo Bene I cervi Abitate con recinzione E già Anneggiate E aggiustale Ok Vabbè Per adesso Si fanno Andare bene Così Non posso Buttare tutti i soldi Per le piante Andiamo a prendere Allora Devo fare Ci sarà da tagliare Un sacco di robe Non ho fatto niente Finora Devo fare L'ambiente Per questi altri cervi Qua Lo facciamo qui Ok Cos'è Cos'è Di Ok Non Sì No Allora Se va bene? Sì Perché l'ho chiuso Mi serve il cancello per habitat Dov'è la strada degli zii qua? Voi non lo vedo Allora devo metterlo da questo lato qui Prendere il sentiero Prendere il sentiero dello staff E fare un po' di strada Prendere il sentiero Prendere il sentiero Prendere il sentiero Se non lo muove Ma si può passare anche dall'altro lato Prendere il sentiero Prendere il sentiero Prendere il sentiero Che sei sto casino? Strada normale Non ho idea di quanto dura la scoviglia Eh Veterinario Certo Dando lì ci sono due animali Sì sì Tu devo tagliare la metà praticamente Perché non hai fatto niente Non ti preoccupare Non è proprio Il sentiero Il sentiero Il sentiero Il sentiero Il sentiero Ok Ok Qua ci devo mettere in questo spazio Una roba Ok posso Posso metterci Un po' storto Dove L'ho messo a posto Storto Poi ti spiego Allora spostiamo I Niala Consegno programmato Dove? Qui Arrivano qui Ma scusa un attimo Ti non fai tutto il giro del mondo No Adesso passano da qua Ma quindi lo staff può passare anche nell'estate normale Sì Però le persone non possono passare nel sentiero dello staff Beh ci mancheremo Ah eccolo Il primo spannato che fu Adesso il ti 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 Sempre note qui Corri corri C'è l'altro qui Sempre con la scopa in mano Sì ovviamente Non posso non lasciarlo Vediamo Eccola qui Cos'è? Temmina E Maschio C'è una differenza E mangiatelo direttamente Guarda la differenza Qua è la miseria Ma seriamente? Ma scusa ma quanti anni hai? Due anni? Adulta, sì Piccola, femmina E macchio E questo quanto c'è? Ah beh Questa c'è una del doppio Non c'entra Dall'anno e mezzo Anche prima In poi Già sono grandezza naturale Ho capito ma Complimenti Allora Sono un po' esagerata Come cosa La coda è particolare La coda Mi fa morire da ridere Quando c'è la luce Poi li guardo meglio Per così non si vede niente Comunque sono due albini Io ho fatto tantissimo spazio E non va bene Loro vogliono molto meno spazio Quindi adesso metti in pausa Taglio e ci faccio Così mi faccio più soldi E la cosa importante è che Riesco a metterci due territori per animali E non uno solo Due recinti Allora Che cosa vogliono? Tanta erba corta L'erba lunga ce n'è Terra Pietra Ok Allora Erba corta Erba corta Erba corta Oh Ok basta Basta Poi Terra Poi Terra Lo stai tagliando Lo stai registrando Lo stai registrando Stai registrando Poi A loro L'acqua Non interessa Morsi di sete Questi non bevono Non interessa niente Non interessa l'acqua Nel senso che La pozza d'acqua Però io Un pizzico d'acqua Per fare una cosa carina Ce lo metto Lo stesso Non vedo più niente Dimmi sto che appena c'è Sempre Sempre l'acqua Ok Ho messo Un pizzico di acqua Mannino Mannino No Adesso ci metto La ricerca La ricerca Vedi un po' Vedi Oh Oh Ho uscito quello che volevo fare Ma che l'hai sotterrato No Ho fatto la La pozzetta Ok Crota la stramandus Guarda qui Da qui c'è l'acqua Poi ci metto una fontanella E poi arriva fino a qua Ma loro nell'acqua ci vanno Oppure no? Sì Rifugio al coperto Sì sì Zero Cos'è che vuoi? Africa Continente Africa Poi Tropicale E prateria Prateria E Tropicale princi Se Volante Ce l'ho messo È troppo forte è stata cosa Che si possono mettere le piante che volano Guarda Posso continuare a metterle all'infinito Dite Andiamo Basta, va via tu. Ah, beh. E se tu pianta qui sotto, visto che non c'era altro. Sì, sì, volevo fare un... Sì, non lo vedrà mai... Ho visto qualcosa muove, forse ci sono gli animali che si muovono. Io sento, ho sentito maiale. Ci sono dei maiale, ci sono. Ok. Cimba. No, no, roccia è normale. Degli alberi che gli piacciono... Ah, i tamarind, ok, piacciono anche a loro come... Ai bongo, i tamarind. Ai bunghi. Un'altra ricerca. Allora, mette i bambalberi al centro. Dai, dai, che forse... Oh, guarda che belle le radici che scendono. Ma via, questo... Basta che non cerchi l'occhio alla gente. Ok, penso bastino, giusto? Sì, perfetto. Ma quanti altri stai mettendo? Basta, basta. Poi, dotazione. Allora, dovete pur mangiare. Togliamo questi. Prendo il sasso di prima che me lo sono perso di nuovo. Ma come stai sapendo quale è il sasso di prima? Quello che avevo visto prima che volevo mettere. Va sotto perché sennò non ha senso. Ok. Ok. No, no. Perché sono tutti enormi. Oh. E lì sotto per ora è a posto. Devono mangiare. Avitat. Giaciglio. Ok. Giacigli sono qua. Mettiamo. Questo è Giaciglio. Dove possono riposare. Ah. Ma si è alzata la cosa? Mh. Come mai? Perché l'ho posizionato io meglio. Cioè mettendo un oggetto per farci risalire bene sopra ha fatto la collinezza. Vedi? Ma non bene. E poi l'ho aggiusto. Intanto lo lascio così. Ok. Adesso devono un rifugio al coperto. Per adesso metto il solito semplice perché non ho tempo. Però il video dura due mesi. Poi ci metterò cose carine sopra. Magari senza registrare. Dotazioni. Ah! Abbiamo sbloccato un po' di roba. E che fa il pallone veramente? Per questi animali qua. Per il niala. Allora, odore di erba. Ah. Da 0 a 41. Non ho capito. Un po' non lo so. Eh. Hai sentito mai la linea? Aspetta, no. Cos'è questa palla? Ah niala gioca con la palla da ferrare. Mangiatoie a barile. E che cos'è? Sono tutte mangiatoie. Palla per brucare. Io sto vedendo cose che non hanno gestizione. Tubo dell'acqua lo mettiamo qui. E mangiatoia. La mettiamo qua. Dovrebbero stare a posto, giusto? È tutto ok. Ok, adesso che è giorno vediamoli un po' più da vicino. E direi che possiamo concludere. Il signore mi ha. No, aspetta. Aspetta. I visitatori. Se no mi pagano. Bisogna metterci il cestino. Eh. Naio, che tu lo offra. Che c'è scritto. Bello per i denari. Così donano. E dov'è dov'è? Fanno le donazioni. Ok. Questo è importantissimo. Se no i soldi non mi arrivano. Secondo me c'è qualcuno che si ruba i soldi da dentro. Si rubano i soldi? Per me se qualcuno infila la mano. Ma come? Ah, effettivamente. Ci rimangono dentro. Solo le monete però eh. Le banconote no. Perché le banconote no? Ma sono più belle le banconote. Vabbè spera che ti danno monete da 2 euro almeno. Ah, ecco. Devo mettere una toilet. Non ce l'hanno all'entrata. Non possono andare al bagno. Non c'è ancora una toilet? No. La metto. Come no? Qua. Poi faccio bene questa zona. Che sono sti gruppi? Il gruppo di costruzione dà fastidio anche a me. Ok. Ho fatto. Sì. Qua poi ci metterò un altro nel prossimo episodio. Magari tartarughe o qualcosa di piccolo. guardiamoci un attimo se nessuno. Salutiamo. Eh eh. Eh vai. Finiamo la ricerca. Lui ne ha fatte nel frattempo. Eh. Dove stanno? Sto ricercando. Ah ah ah. Eh vabbè. Eccesso senza l'eccesso. Eh sì è ovvio. Poi ce la metto. No. Allora questa è la. Non lo posso usare. Niente. Questa è la mia lina femminuccio. Quanto è carina. Eh con tanto spesso se devo mettere proprio lì. Sì. Comunque è simile alla bonga. Guarda che schifo. No è bellissima. No mi distrae quello che c'è dentro. Eh. Guarda così. Guarda le strisce. Chi è che beve, mangia, fa cose. Il maschietto che è sempre il più bello. Il maschietto che è sempre il più bello. Il maschietto che è sempre il più bello lo vediamo qui. Ha dei graffi tra l'altro. Guarda quanto è bello dai. Sempre è vicino alla cacca. Eh vabbè. Tutto graffiato. Vabbè. Possiamo concludere qui il video. Nel prossimo episodio metterò un altro animale. E devi mettere la corrente al bagno. Ce la metto dopo. No. Metti la corrente al bagno. La metto dopo. La metti dopo la corrente al bagno. Poverino tutto ferito. Da noi e da Niala è tutto. Mi fa un po' impressione per quanto è ammaccata. Ma che è tutto fa impressione? Mastica in faccia. Eh vabbè. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un bel mi piace. Sapete YouTube come funziona. Fate qualsiasi cosa positiva. Mi raccomando anche con la campanellina. Fate a mettere mi piace anche ai vecchi video che c'è stata una strage. Controllate in alto a destra le schede. Potrebbero esserci dei sondaggi. Controllate la schermata finale alla fine. Spero di non essermi dimenticato nulla. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.